Buongiorno a tutti, mi chiamo Matilde e sono una studentessa del sesto anno del corso di laurea magistrale in odontiatria e pratica dentaria. Durante il mio percorso accademico ho avuto la possibilità di partecipare a un programma Erasmus Trainship a Barcellona presso una clinica dentale per un semestre. È stata un'esperienza unica e indimenticabile. Mi ha permesso di prendere parte dell'attività clinica, partecipare a congressi, studiare e quindi arricchire il mio bagaglio culturale, ma sicuramente anche quello personale. auguro a tutti voi di poter vivere un'esperienza Erasmus positiva come la mia.